È una festa dell'Europa che va festeggiata veramente perché credo che non bisogna inseguire questo sport nazionale in voga in questo momento, di parlare tutti contro l'Europa. Ci sono problemi veri e sono seri. L'Europa ha ricevuto il Nobel per la pace nel 2012 per la pace che ha realizzato in Europa. Il compito dell'Europa è quello di realizzare anche la pace internazionale, la pace nel mondo, quindi deve migliorare il rapporto anche con il mondo intero. Ma ci sono anche altri problemi da affrontare. Io credo che non si possa tornare indietro. Bisogna correggere i difetti ma non bisogna negare quello che è stato il processo lungo, faticoso e anche vantaggioso di questi anni. Noi non avremmo migliorato le scuole se non avessimo avuto i fondi europei, non avremmo messo in movimento tutta la popolazione scolastica se non avessimo avuto i progetti europei Erasmus, Comenius, lo stesso progetto Leonardo per la formazione professionale e per l'educazione permanente, l'educazione degli adulti. Quindi grandi vantaggi ci sono stati. Soltanto non dobbiamo considerare l'Europa una ex cassa per il mezzogiorno. Abbiamo anche degli obblighi, quindi abbiamo obblighi di rendicondazione, di certificazione, di trasparenza. Però pensate un attimo che cosa significa tornare indietro. Cioè rimettere i confini nazionali per una popolazione giovane che è cresciuta invece senza confini e che è abituata a viaggiare, e che è abituata a muoversi. Quindi bisogna correggere quello che è stato fatto, bisogna migliorarlo, bisogna porre problemi all'Europa senza uscire dall'Europa.